A Comunale di Secchiano si affronta la nuova fete Bacchia e Cesenatico. Gara condizionata da forte freddo, nevica sui monti che circondano la nuova fete Secchiano. Proprio le forti precipitazioni rendono il campo al limite della praticabilità, per lo meno per la Biodematch, dove il signor artese di Reggio Emilia decide per l'appunto di sfidare la sorte. Dopo neppure 35 secondi di gioco, il Bacchia si rende subito pericoloso con un traversone di Salvadori per il colpo di Testi Magnani, pallone fuori d'un nulla. Il terreno diventa sempre più pesante, le pozzanghe rallentano il gioco e arrivano conclusioni come questa di Mazzarini, comoda chiamata per Semprini. Nuova fete a che si vede al quindicesimo, rimessa all'altra di Gori, sponda di Stefanelli, nuova traversone di Gori, ma russa anticipa l'uscita fra Bolli. C'è spazio anche per gli applausi, che raccoglie il capitano di casa Rinaldi per questa chiusura perfetta e pulita su Agostinelli. In tribuna, la squadra giovanile dei piccoli del Bologna Calcio ci teneva a salutarli, loro mister e Beniamino. Alla mezz'ora, in mezzo alla tempesta, non poteva mancare la nota negativa. I soliti problemi fisici costringono fattori ad abbandonare il match anzitempo e proprio dall'uscita del centenario difensivo, in maglia numero 5 sostituito da Fabrizio Cupi, nasce un altro copio di testa pericoloso terminato all'altro ad opera di Magnani. Dall'altra parte risponde Stefanelli, ma la conclusione del Nazionale Samarinese è da dimenticare. Ultima emozione, si fa per dire, dei primi 45 minuti di gioco è questo scambio tra Frabbone e Baldinini, che porta al tiro, quest'ultimo. Russo blocca senza affani. Squadra negli spogliatoi, l'avvio di ripresa tarda eccessivamente, c'è un consulto tra direttore di gare e due capitale delle squadre, poi subitreranno altri consulti con dirigenti e protagonisti, ma alla fine, dopo l'imbalzo del pallone, una fanghiglia che la fanno da padrone nel rallentare il gioco e il forte freddo, portano alla sospensione del match, recupero adatta da destinarsi.